Lei è proprio preziosa, sì, come un rubino direi. Eccola qui, Citroen Grand C4 Space Tourer, mamma mia gigantesca. Così sono gli interni della Space Tourer veramente enormi. Eccomi qua, a bordo di Grand C4 Space Tourer. 1.5 di cilindrata, 130 cavalli, allestimento Phil, in questo rosso rubino veramente spettacolare. E' veramente un botto, ma dico un botto di optional. Scopritela su ratiauto.com, vi basta cliccare il link che trovate in descrizione. Venite a trovarci in showroom, prontate un appuntamento, noi vi aspettiamo. Non fateci aspettare troppo, venite a trovarci, non ve ne pentirete. Bella!